Parte l'estate di Montesilvano, tanti eventi nei mesi di luglio ed agosto, confermate anche alcune chiusure, isole pedonali nella zona della Riviera, Sessora? Sì, quest'anno, in seguito alle vicende del Covid, abbiamo deciso di formulare un format diverso. Dunque noi manterremo la chiusura al traffico della Riviera, avremo l'isola pedonale corta da lunedì, martedì, da grandi alberghi fino a Via L'Europa, Via L'Europa esclusa, mentre è lunga giovedì, verdi, sabato e domenica con Via L'Europa compresa, dove ci saranno tutti i commercianti che si riverseranno con i tavolini e con anche dei piccoli eventi. La nostra idea è quella di accompagnare la passeggiata con dei momenti di intrattenimento musicale, che non sono veri e propri eventi, che possono quindi rischiare di creare assembramento, ma sono semplicemente delle formule intese ad accompagnare proprio la passeggiata dei cittadini e dei turisti che vorranno intervenire in Montesilvano. Abbiamo deciso di utilizzare questa formula diversa anche un po' per mantenere un profilo basso rispetto a quello che è successo in quest'annualità. Quest'anno abbiamo inteso ragionare l'estate con chi poi sarà protagonista, ce lo auguriamo, dopo uno difficile momento che è legato al Covid, ossia i commercianti e il tessuto turistico commerciale della città. Con loro abbiamo ragionato una formula che possa garantire sia quella sicurezza e quelle distanze che sono fondamentali, ma anche un'attrattività da un punto di vista turistico commerciale. Il motivo per il quale abbiamo diversamente dagli altri anni ragionato degli eventi non grandi, ma piccoli, proprio a supporto del commercio e del turismo. Prisporremo dei palchetti sull'isola pedonale che quest'anno avrà due novità. La prima è che tutti i mercoledì si sposterà sul Corso Umberto proprio per favorire anche il commercio del centro e per tre giornate di agosto si sposterà sul lato sud di Montesilvano e questo vuole essere un esperimento che poi potrà ragionarsi anche per il futuro. Appunto con le associazioni di categoria abbiamo ragionato questo e riteniamo di aver fatto comunque un buon lavoro e aver regalato alla nostra città un qualcosa ugualmente di importante.